Una didattica orizzontale che vede gli studenti formare i propri compagni. E' stato questo l'obiettivo delle giornate Fai Scuole che, da giovedì e fino ad oggi, sono arrivate anche a Trapani. I ragazzi dell'indirizzo tecnico-turismo, dell'Istituto Sciaccia Bufalino, dell'Istituto Ignazio e Vincenzo Florio, del Liceo Scientifico Fardella e dell'Istituto Comprensivo Nunzionasi hanno così raccontato il cimitero monumentale della città che, durante le giornate di autunno realizzate il 14 e 15 ottobre, è stato molto apprezzato dai visitatori. Ad ascoltare i ciceroni, invece, c'erano gli studenti dell'Istituto Sciaccia Bufalino, dell'Istituto Comprensivo Sciaccia Montalto e dell'Istituto Rosina Salvo. Come FAI Delegazione Trapani abbiamo voluto riproporre la stessa attività che abbiamo svolto durante le giornate Fai d'autunno. L'attività consiste nel aprire agli studenti, in particolare in questa giornata, il cimitero monumentale di Trapani. I ragazzi che hanno svolto l'attività di ciceroni nella giornata Fai d'autunno riproporranno la stessa attività, però questa volta per i loro compagni. L'opportunità che si offre a questi ragazzi è quella di offrire una formazione tra pari, ovvero una formazione di tipo orizzontale, quindi un tipo di formazione insolita rispetto a quello che i ragazzi sono abituati a seguire. Quindi quel tipo di formazione verticale, ovvero che arriva sempre dall'alto, dal docente. Questa attività quindi li stimola a diventare quasi divulgatori culturali, stimolando la loro stessa curiosità e la curiosità dei loro colleghi. I ragazzi quindi avranno l'opportunità di conoscere alcune delle cappelle storiche, come per esempio la Cappella Burgarella, la Cappella Allo Nero, il Sagrario Militare. Quindi conoscere un luogo che pur essendo appunto normalmente aperto alla cittadinanza non è molto conosciuto.